Ciao da Lucia, oggi vorrei presentarvi il mio scaldacollo delle feste, molto elegante, carino, veramente semplicissimo da fare, velocissimo da fare, è più un collo, più che un colletto, perché non ha dimensioni come i miei soliti scaldacollo, un po' paffutelli grossi e insomma voluminosi, questo è proprio un collo, voglio innanzitutto ringraziare l'ideatrice della base del mio scaldacollo, quindi devo dire che lo scaldacollo in realtà non è mio ma è nostro, insomma mi permetto di dire nostro perché è più della signora Maria Teresa Menna, visto che il progetto originale è il suo, io l'ho solo rielaborato con delle rifiniture diverse, quindi ho aggiunto il colletto, i bottoncini l'ho unito in modo che rimanga chiuso e ho fatto dei ventaglietti, quindi comunque ho fatto delle rifiniture che lo personalizzano, però in realtà il progetto principale è appunto della signora Menna, che ringrazio, ovviamente mi ha concesso di potervi fare questo tutorial. Io l'ho fatto color oro e sto facendo il progetto per voi in argento, quindi ve lo farò vedere in due diverse versioni, prima di andare al tutorial vorrei dirvi che in descrizione troverete il progetto principale della signora Menna, quindi vi metto il link del suo tutorial, quindi andiamo a vedere come si realizza. Io ho già fatto quindi la base e vi dico subito quanto quanto misura, così voi potete decidere a seconda del filato avete le misure che sono la cosa principale. Allora, il mio scaldacollo misura 61 cm, vi consiglio di non farlo meno di 60, poi va un po' a gusti, però comunque vi consiglio di non farlo meno di 60. E ho lavorato quindi 60 in larghezza, noi lo lavoreremo appunto in orizzontale e in altezza sono appunto 11 cm, quindi 61 di larghezza e scusate 11 di altezza. Ovviamente ora vi farò vedere un piccolo campioncino del punto per farvi vedere come si realizza, dopodiché passeremo direttamente a unire, quindi a chiudere il colletto e a fare il bavero e le rifiniture a ventaglietti. Passiamo quindi subito a vedere come si realizza il punto. Allora, per farvi vedere il punto ho fatto 12 catenelle, ne ho fatte proprio pochine perché così andiamo molto più velocemente, ed è un multiplo di tre. Quindi facciamo tutto il primo giro, quindi vado a fare altre 3 catenelle, che saranno la nostra prima maglia alta, entro nella quarta dall'uncinetto e quindi vado a fare tutto il giro a maglia alta, in questo modo. quindi quando arriveremo poi alla fine procederemo con iniziare appunto il punto. Adesso siccome sono poche ve lo faccio proprio vedere senza neanche fare pause perché è veramente, ovviamente, ho fatto un campioncino piccolo apposta per potervi far vedere più velocemente, così poi procediamo direttamente alle rifiniture. Ecco qui. Ovviamente poi vi dirò con il mio filato e il mio uncinetto quante maglie in origine ho avviato. Comunque, abbiamo finito il nostro primo giro a maglia alta, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro ed entriamo proprio nel primo punto per fare la nostra maglia bassa. Dopodiché facciamo 1, 2, 3 catenelle e contiamo 1, 2, tra la terza e la quarta maglia, proprio nel mezzo, qui, ci inseriamo e facciamo una maglia bassa. Di nuovo, 1, 2, 3 catenelle, sempre 3 maglie, quindi tra la terza e la quarta, qui ci inseriamo con la maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, di nuovo, qui, dopo 3 maglie, ci inseriamo con la maglia bassa. Per chiudere, 1, 2, 3 catenelle e ovviamente, scusate, carico sempre per farla alta ma in realtà è bassa, andiamo a chiudere, quindi vedete ci rimangono 3 maglie alte, ci chiudiamo sull'ultima, quindi sulla terza catenella d'inizio, in questo modo, aspettate che la prendo bene, ecco qui, con una maglia bassa. E abbiamo fatto il primo giro, vedete, abbiamo creato questi archetti fissati tra le maglie alte sottostanti, con una maglia bassa. Ora, facciamo 3 catenelle, che saranno la nostra prima maglia alta, voltiamo il lavoro, e ovviamente, avendole già fatta una, carichiamo, andiamo a fare 2 maglie alte nel primo archetto. Ne facciamo solo 2, perché ovviamente la prima è sostituita dalle 3 catenelle e rimarrà proprio fuori dall'archetto. Mentre tutte le altre, 3 maglie alte, 3 maglie alte, 3 maglie alte, quindi sopra ogni archetto, dentro in ogni archetto, andremo a fare 3 maglie alte. Quindi, prossimo archetto, 1, 2, 3 maglie alte. Carichiamo, andiamo nel prossimo archetto, senza separazioni, senza catenelle né niente, proprio come se stessimo lavorando un giro di maglia alta, normalissimo, ma lo lavoriamo all'interno degli archetti, vedete, quindi in questo modo. Prossimo ed ultimo archetto, faremo 2 all'interno, ovviamente, 2 maglie alte all'interno, e la terza la andiamo a fare sulla nostra maglia bassa del giro precedente. Quindi, per aprire e per chiudere, saranno sempre 2 all'interno dell'archetto e 1 all'esterno, quindi in questo modo. facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo di nuovo quello che abbiamo fatto nel secondo giro. Quindi, prima maglia bassa, 3 catenelle, e quindi, vedete, adesso iniziano a separarsi le maglie, quindi non dobbiamo neanche più contarle, e andiamo a fare la nostra maglia bassa. 3 catenelle, vedete, si sono separate, entriamo e facciamo la maglia bassa. 3 catenelle, entriamo e facciamo la maglia bassa. 3 catenelle, ovviamente siamo all'ultima, andiamo sull'ultima maglia alta, quindi le 3 catenelle d'inizio e facciamo la nostra maglia bassa. Quindi, tutto il lavoro sarà la ripetizione di questi 3 giri. Non dobbiamo fare nient'altro. Quindi, fatto vedere questo, adesso vi dico quanti giri ho fatto io. Allora, io ho lavorato, ve lo dico già subito, quindi ammetto via il campione, ho lavorato un filato che andava bene anche col 3,5, effettivamente, ma l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 4. Vediamo se si vede, se me lo metti a fuoco, ecco qui, non me lo metti a fuoco, fa niente. L'ho lavorato col numero 4. Ho fatto, per raggiungere i miei 11 centimetri di altezza, ho fatto 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 giri. 15 giri e ho fatto, quindi vi conto i moduli da 3, ho fatto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 moduli. Quindi fate il calcolo, 32 moduli moltiplicati per 3 e viene fuori proprio il numero delle maglie. Quindi 32 per 3 sono 96, ho fatto 96, sono partita con 96 catenelle. Quindi mi era sfuggita una maglia. Ora procediamo, quindi quando avrete pronta la vostra striscia, quindi il vostro scaldacollo, procediamo in questo modo. Allora, ho alzato, ho allontanato la visuale per farvi vedere bene che cosa andiamo a fare. Non stacchiamo neanche l'uncinetto, andiamo semplicemente a sovrapporre in questo modo. Allora vi faccio vedere. Così è aperta, quindi pieghiamo un lembo in questo modo, il lembo, l'altro lembo in questo modo, e andiamo perfettamente a sovrapporre i due lati per creare una punta. Ora non dobbiamo fare altro che, a maglia bassa, unire questi due lembi. Se vi è più comodo per non far muovere, io mi fermo il tutto con una spilla, perché è facilissimo che si sposti il lavoro. Quindi, siccome ci serve anche l'angolazione giusta, io adesso con una spilla vado a puntare il lavoro in questo modo, così sono sicura che il lavoro è fermo e non si muove. Ecco qua. Ora, con una maglia bassa, in ogni maglia sottostante, quindi qua ci troveremo il laterale, quindi lavoreremo due maglie basse in ogni maglia alta. Quindi saranno due su questa, due su questa, due su questa, e una ovviamente invece sul giro di archetti. Quindi faremo in questo modo. Allora, teniamo le belle unite, e andiamo così, entriamo nella prima, e facciamo una maglia bassa. Entriamo nella seconda, intanto controlliamo se dietro prendiamo realmente la seconda, e quindi facciamo un'altra maglia bassa. Quindi devo fare due, quindi entro, prendo quella sotto, e faccio una maglia bassa. Di nuovo, in questo modo, vedete, vado a controllare di aver preso bene la maglia retro. Quindi, di nuovo, entro e prendo anche il retro, così, entro e prendo anche il retro, così, entro, mi raccomando, due sulla maglia alta, e una nel giro dove abbiamo fatto gli archetti. Sì, quindi entriamo, maglia bassa, entriamo, maglia bassa, entriamo, maglia bassa. Facciamo questo procedimento per tutto il giro. Quindi, adesso arriviamo qua in fondo, poi ci rivediamo, e vi faccio vedere come girare, e come fare poi tutto il resto del giro. Io ho chiuso tutto questo lato, ora tolgo la spilla, tanto non si muove più niente. Sull'ultima, maglia bassa, io vado a lavorarne tre, perché sarà una da questo lato, una per l'angolo, quindi per non fare alzare la punta, e una, ovviamente, per l'altro lato. Quindi, procediamo ad unire anche questo lato. Da questo lato è più semplice, perché, vedete, noi siamo nel senso giusto della maglia. Quindi, tiriamo dentro il filo d'inizio, così non abbiamo poi da nascondere i fili. Cosa facciamo? Entriamo in ogni maglia, e facciamo la nostra maglia bassa. Vedete? Qua è più semplice, perché la maglia ce l'abbiamo. Non dobbiamo calcolare di farne due, su una alta, e una sul giro dove abbiamo fatto le catenelle. Qua ce l'abbiamo, e la facciamo. Quindi, entriamo in ogni maglia alta sottostante, e ne facciamo una bassa. Ovviamente, prendendo sempre anche l'altro lembo, perché dobbiamo unirli in questo modo. Quindi, uniamo tutto questo lavoro, e continueremo, poi, per tutto il giro. Quindi, andremo tutto attorno, fino a tornare da dove siamo partiti. Quindi, ci rivediamo appunto, quando siamo di nuovo qui. Vedete? Arrivati alla fine del giro, non facciamo altro che chiudere con una maglia bassissima, nell'ultima maglia alta lavorata, a inizio giro. Quindi, entro qui, e chiudo con una maglia bassissima. Ecco qui, vi faccio vedere, aspettate che alzo, ecco qua, vi faccio vedere il mio scaldacollo. Aspettate che stacco. Unito. In questo modo. Allora, va tirato bene, ovviamente. Non tirate troppo il bordo quando lo fate, sennò si arriccia, perché tira poi quello dietro, vedete? Ecco qua, è fatto il mio scaldacollo. La comodità appunto di questo scaldacollo, è che è molto accollato, ma si allarga per infilarlo, perché ovviamente non è stato chiuso tutto, quindi, vedete, la diventa strettino, ma comunque c'è la possibilità di farlo passare bene per la testa. Ora andiamo a fare, prima i nostri ventaglietti di rifinitura, e poi facciamo il colletto. Quindi dopo aver unito, appunto, con la maglia bassissima, cosa facciamo? Facciamo tre catenelle, una, scusate, ecco qua, se no non vedete niente, due, tre catenelle, carichiamo, rientriamo nella stessa maglia bassa sottostante, andiamo a fare un'altra maglia alta, una catenella, e sempre nella stessa maglia, altre due maglie alte. Quindi andiamo a creare il nostro primo ventaglietto. Ora, carichiamo, saltiamo due maglie basse sottostanti, nella terza entriamo, andiamo a fare il nostro secondo ventaglietto. Quindi, maglia alta, di nuovo maglia alta, catenella, maglia alta, e maglia alta. Il nostro secondo ventaglietto, vediamo se riesco a schiarire un attimino, ecco qua. Quindi, di nuovo, senza catenelle di separazione, niente, saltiamo due maglie sottostanti, sulla terza, maglia alta, seconda maglia alta, catenella di separazione, e altre due maglie alte, sempre nello stesso punto. Quindi, facciamo questo per tutto il nostro giro. Però, volevo farvi vedere l'angolo, quindi, ne facciamo un altro insieme, poi, procediamo separate, ecco qui, procediamo separatamente, è anche sfocato oltretutto. Adesso sistemo tutto, nella pausa. Ecco qua. Adesso io arrivo, alla punta del nostro scaldacollo, e poi vi faccio vedere come si fa. Siamo arrivati alla punta dello scaldacollo, quindi, salto le due maglie sottostanti, entro proprio nella punta, quindi, qui, e faccio, ne faccio tre, quindi farò tre maglie alte, invece che due, due catenelle, e tre maglie alte. Così, allarghiamo il ventaglietto, e non tirerà sulla punta. Ecco qui, in questo modo. Vedete, rimane, proprio, bello a punta, senza tirare né di qua né di là. Ora, procediamo esattamente come fatto su questo lato. Facciamo il giro, quindi, di tutto il nostro scaldacollo, fino ad arrivare, appunto, qui, dove uniremo i due ventaglietti, e staccheremo il filo. Arrivata, quindi, all'ultimo archetto, non facciamo altro che unire, con la terza catenella d'inizio, in questo modo, l'ultimo ventaglietto, scusate, non l'archetto. Eccolo qua. Chiudiamo. Io faccio sempre una catenella di sicurezza, alzo il filo, taglio, e sfilo. Procederemo poi, ovviamente, a nascondere il filo. Ora, come andiamo avanti? Ecco qua, vi faccio vedere. Allora, aspettate un attimino, che alzo, e soprattutto metto a fuoco, non riesco a capire per quale motivo continuo ad andare fuori fuoco. In continuazione, allora, alziamo un pochino, così, c'è qualcosa che non va, continuo ad andare fuori fuoco, e non mi spiego il perché. Allora, in così, perfetto, ci mettiamo davanti il nostro scaldacollo, in modo che sia perfettamente dritto, quindi con la punta verso di noi, in questo modo. ora, io procedo, praticamente, a occhio, quindi, decido, guardo più o meno, qual è, dall'incrocio, vedete, abbiamo, un forellino qui, e un forellino qui, quindi, io decido che il mio colletto, lo farò partire dal secondo, praticamente, dal secondo forellino, che troviamo tra i blocchi da tre, quindi, questo è il primo, questo è il primo, io partirò da qua, e finirò qui, quindi, inserisco, un marca punti, dove andrò a partire, così, anche muovendo il lavoro, sono sicura che devo partire da lì, e, di qui, così so dove devo finire, ecco qui, messi i miei marca punti, adesso posso anche muovere il lavoro, perché so che il mio colletto, inizierà da qui, e finirà qui, quindi, adesso procederemo, dei giri di andata e ritorno, ho fatto il cappietto, e l'ho messo sull'uncinetto, il colletto, per far sì che poi, una volta girato, quindi, vedete, una volta messo in questo modo, sia sul dritto, lo dobbiamo andare a lavorare, dall'interno, quindi, il nostro dritto, sarà montato, sul nostro rovescio, quindi, prendiamo qui, mettiamo il nostro colletto, dall'interno, ho fatto il mio cappietto, entro proprio nel foro, dove c'è il marca punti, qui, e vado a fare, una maglia bassissima, dopodiché, tre catenelle, una, due, tre catenelle, che sarà la nostra prima maglia alta, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro nello stesso foro, e quindi vado a completare il mio ventaglietto, con altre due maglie alte, ecco qua il nostro primo ventaglietto, non contiamo neanche le maglie, andiamo direttamente nel prossimo foro, e facciamo un altro ventaglietto, quindi, due maglie alte, una catenella, e due maglie alte, procediamo così, quindi, di nuovo, carico il filo, prossimo foro, due maglie alte, una catenella, due maglie alte, ci ritroviamo fino, allora, dobbiamo andare fino all'altra marca punti, quindi dall'altro lato, lavorando anche proprio all'interno del foro, dove c'è il marca punti, ci rivediamo proprio qui, sono arrivata a fare l'ultimo ventaglietto, quindi entro dove c'è il marca punti, e faccio le mie due maglie alte, una catenella e due maglie alte, in questo modo, ora faccio una catenella, e volto il lavoro, in questo modo, quindi, mi ritrovo sul dritto, e cammino con delle maglie bassissime, fino ad arrivare ovviamente al centro del ventaglietto, quindi, nella prima, bassissima, la seconda, bassissima, aspettate perché ho preso dentro l'urex, e la terza, bassissima, perché lo faccio anche sulla prima? Perché voglio che rimanga la punta, se io scavallo la prima, e vado direttamente nella seconda, con la maglia bassissima, ma si arrotonda la punta, io volendo farla rimanere bella a punta, il ventaglietto, faccio la maglia bassissima anche nella prima, quindi, altrimenti mi si arrotonda, quindi, faccio le mie tre catenelle, scusate, rientro per fare la seconda maglia alta, catenella, e di nuovo maglia alta all'interno del ventaglietto, quindi adesso andremo a fare quello che abbiamo fatto fino ad ora, ma lavorando all'interno di ogni ventaglietto, quindi passiamo al ventaglietto successivo, andiamo al centro, e facciamo due maglie alte, una catenella, e due maglie alte, in questo modo, quindi, di nuovo, carichiamo, ventaglietto successivo, al centro, due maglie alte, una catenella, e due maglie alte, procediamo in questo modo, per quanti giri desideriamo, quindi, io adesso qui, penso ne farò 4, 5, il filato è un po' più sottile di questo, vedete, questo filato è un po' più corposo, io qua avevo fatto 4 giri di ventagli, per avere questo effetto, però, voi potete decidere di farne di più, di meno, vi piace il colletto più piccolo, più, più, più sceso, ecco, io l'ho lasciato così, perché mi rimaneva un po' rigido, e se c'è il vento, si può alzare dietro, e lasciare le due punte del colletto, così sollevate, in modo che copra anche parte del viso, e quindi l'ho lasciato così, però, quello è a gusto personale, quindi, adesso, procedo con i giri restanti, dopodiché, ci salutiamo, perché siamo arrivati alla fine, ed ecco qua, finito, il nostro, scaldacollo delle feste, argento, ora, io, non ho in casa, in questo momento, dei bottoncini del colore adatto, ma, in ogni caso, i bottoncini sono, assolutamente facoltativi, quindi, volendo, potete lasciarlo anche, semplicemente così, vedete che belli che sono, veramente, graziosi, eleganti, se mettete sotto un cappottino, il cappottino, sapete che ha l'apertura V, un po' profonda, diciamo che questo, insomma, copre bene, copre bene, e ha il suo collettino, direi che, questo tutorial è finito, io spero vi sia piaciuto, spero di aver spiegato bene, tutto quanto, vi mando un bacione, ciao ciao, al prossimo tutorial, ciao da Luci!